Buongiorno a tutti, benvenuti a Dissesto Tg. Spartiamo subito con i titoli della giornata di oggi. India, arrestati i soldati italiani accusati di aver ucciso due pescatori. È scontro tra le autorità giudiziarie sulla giurisdizione. Poi Monti va a Piazza Affari per parlare con i broker finanziari, mentre nel pomeriggio è atteso l'incontro tra il ministro Elsa Fornero e le parti sociali per discutere della riforma del mercato del lavoro e intanto a Bruxelles l'Eurogruppo tratta della situazione greca. Infine la cronaca, sentiremo la drammatica notizia di un altro ennesimo suicidio in carcere. A San Vittore un ventenne si è tolto la vita. Ma partiamo subito con le notizie dall'estero. Sentiamo le ultimi aggiornamenti sulla situazione in India dal nostro inviato Eliano Rossi. Buongiorno, continua il braccio di fello tra la diplomazia indiana e quella italiana. La situazione di due marò, membri della marina militare italiana, è molto grave. Infatti Massimiliano Latore e Salvatore Girone rischiano, secondo l'articolo 302 del codice penale indiano, il carcere a vita, l'ergastolo oppure la pena di morte. I due marò italiani sono stati infatti accusati dalle autorità locali di duplice omicidio e saranno trasferiti questo pomeriggio dall'isola di Wellington in una città presso Cochi, nel sud del Kerala, dove saranno sentiti da un magistrato che probabilmente prenderà una prima decisione sul caso. Intanto il nostro ministro degli esteri Terzi ha fatto sapere che la situazione è difficile perché l'India non sta collaborando come dovrebbe, come il diritto internazionale auspica. Infatti la petroliera italiana Enrica Lexi al momento del fatto si trovava, secondo la ricostruzione dei marò, a 32 miglia marittime dallo stardo del Kerala. Ciò vuol dire che si trovava in acqua internazionali, secondo la ricostruzione italiana. In quel caso la giurisdizione legale ricade sullo stato per il quale la bandiera della nave batte, in quel caso la nave era italiana e quindi teoricamente la giurisdizione sarebbe italiana. È diversa la versione che danno le autorità indiane perché secondo loro la nave si trova a 22 miglia marittime e quindi hanno preso delle decisioni unilaterali. Inoltre si infitisce il mistero di questa situazione perché secondo le autorità indiane sono stati sparati 16 colpi verso l'imbarcazione del peschereccio di cui 4 hanno colpito i due pescatori indiani morti e secondo invece i militari italiani sono stati sparati solo dei warning shots. Grazie, grazie Eliano. Ma per vedere come sono state affrontate queste notizie dai quotidiani andiamo a vedere la rassegna stampa curata da Giuliana De Vivo. A te Giuliana. Sì, buongiorno. In effetti la notizia dell'arresto dei due marò italiani è quella di apertura di quasi tutti i principali quotidiani e come diceva poco fa il nostro inviato, il mistero è una delle parole chiave utilizzate dai quotidiani di oggi. Vediamo infatti il Corriere della Sera che apre con i tre misteri del caso indiano e all'interno un articolo di Fiorenza Sarsanini nel quale si sottolinea come le versioni fornite da Massimiliano Latorre e Salvatore Girone siano in realtà estremamente divergenti da quelle invece fornite dalle autorità di Nuova Delhi in particolare per quanto riguarda l'orario dell'incidente, la posizione in cui si trovava la nave e l'ipotesi di un'altra imbarcazione coinvolta. Grandissima importanza a questa notizia sceglie di dare anche la stampa arrestati due marò, attenzione tra India e Italia. All'interno un articolo di Grignetti in cui si spiega anche che l'autopsia è stata vietata dalle autorità indiane perché è considerata oltraggiosa dal popolo e quindi le autorità di Kerala finora hanno negato l'autopsia. Sceglie invece di dare un taglio centrale a questa notizia la Repubblica che invece preferisce aprire con notizie relative alla politica. In realtà è un titolo che contiene due notizie da un lato il taglio alle tasse rispetto al quale sarebbe pronto un decreto e quindi il preconsiglio di domani mattina tra i ministri per una nuova riforma fiscale con la quale si dovrebbe abbassare l'aliquota IRPEF per i redditi più bassi in che modo? Sfruttando la metà degli 11 miliardi che si stima arrivino dalla lotta all'evasione fiscale. L'altra notizia è ovviamente quella che riguarda invece la riforma del lavoro e anche qui c'è molto da dire perché da un lato abbiamo la modifica sull'articolo 18 sulla quale ci spiega la Repubblica a pagina 7, la Camusso ha deciso, ha diciamo frenato dicendo impossibile chiudere entro marzo e l'altra notizia è quella invece che riguarda un eventuale intervento sulla cassa integrazione straordinaria e qui Repubblica ci avvisa che c'è un asse tra Confindustria e i sindacati perché toccare la cassa integrazione straordinaria significherebbe perdere 800 mila posti di lavoro ma sull'articolo 18 c'è discussione anche all'interno del PD e ce lo ricorda molto bene il quotidiano l'unità che decide di dedicare la prima pagina quasi esclusivamente a questo articolo 18 duello nel PD, Veltroni non sia un tabù, Fassina, caro Walter ti sbagli la Camusso che ricorda che è una norma di civiltà e all'interno un'intervista dedicata all'ex ministro Giuseppe Fioroni sulla necessità di toccare l'articolo 18 interviene un ennesimo editoriale di Alesina e Giavazzi sul Corriere della Sera che ricordano come una riforma di questo tipo sia già stata fatta in Spagna e scrivono la strada spagnola è quella giusta, far pagare alle imprese una parte dei sussidi di disoccupazione fa sì che esserci pensino bene prima di licenziare un dipendente ma agevolarle se il licenziamento dipende da motivi economici evita che si tengano artificialmente in vita imprese decotte come invece avviene in Italia quando si prolunga oltre misura la cassa integrazione cambiando argomento invece sugli spettacoli il Corriere della Sera decide di dedicare ancora spazio al Festival di Sanremo in particolare con un'intervista a Geppi Cucciari che nel suo intervento ha deciso di ricordare e di fare un appello per Rossella Urru, la cooperante rapita ad ottobre in Algeria per agli spettacoli dedica uno spazio anche la stampa con un'intervista al regista Fabio Cavalli che da dieci anni fa spettacoli teatrali con gli attori di Re Bibbia i protagonisti del film Cesare deve morire che ha vinto l'orso d'oro grazie Giuliana per la rassegna stampa appena arrivata in studio un'ultima agenzia che porta purtroppo una brutta notizia dagli esteri sono morti tre militari italiani in Afghanistan a caso di un incidente il loro mezzo lince si è ribaltato e per i tre militari italiani non c'è stata via di scampo sono morti tutti e tre sul colpo adesso si attende il rientro dei feretri in Italia spostandoci appunto in Italia per notizie di politica interna sentiamo il servizio di Stefano Glenser sulle ultime novità da economia e situazione sociale a te la linea Stefano il lunedì di Mario Monti si divide tra Italia e Belgio oggi questa mattina è in corso al momento un incontro tra il Premier e i vertici della finanza italiana presso Piazza Affari nella sede della Borsa Italiana l'incontro è iniziato alle 10.30 però già prima c'è stato un piccolo summit tra Monti e i grandi della finanza italiana e dell'economia italiana si è parlato soprattutto della Tobin Tax della nuova tassa sulle transazioni finanziarie e tra gli interlocutori di Mario Monti c'è stato l'amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni Franco Bernabè, Fabrizio Viola di Monte dei Paschi di Siena Mario Tronchetti Provera e il Vice Ministro dell'Economia Vittorio Grilli nel pomeriggio appunto come detto Mario Monti andrà a Bruxelles per un incontro dell'Eurogruppo Bruxelles dove si sta parlando della situazione della Grecia dovrà essere sbloccato al più presto secondo il Ministro delle Finanze francese François Barouin il nuovo piano di aiuti verso Atene da 130 miliardi di euro Lucas Papademos ha fatto sapere che finora sono stati già attuati dei tagli al budget di Atene per 375 milioni di euro ma questo non basta se l'Europa vorrà salvare la Grecia e di conseguenza anche se stessa perché il contagio verso le economie più deboli sarebbe certo dovrà sbloccare al più presto la situazione situazione che si cerca di salvare anche in Italia con un incontro tra Elsa Fornero, il Ministro del Welfare e le parti sociali all'ordine del giorno c'è la revisione e la cancellazione della Cassa Integrazione straordinaria con al suo posto un possibile inserimento di sussidi universali il pomeriggio ci sarà un incontro con le parti sociali Maurizio Landini della FIOM ha già fatto sapere di essere completamente contrario come anche gli altri sindacati ma si vedrà dopo questo incontro Grazie Stefano per queste ultime notizie Restiamo in Italia per i fatti di cronaca arriva da San Vittore la brutta notizia di un suicidio un ragazzo di 20 anni si è tolto la vita e questo riporta al centro del dibattito appunto il tema delle carceri sovraffollate delle condizioni disumane a cui sono sottoposti i carcerati ci dà tutti i dettagli Silvia Ragusa a te Silvia Sì buongiorno come vedete mi trovo proprio qui davanti al carcere di San Vittore dove questa mattina si è suicidato un giovane di appena 21 anni Alessandro Galelli aveva compiuto 21 anni da poche settimane era accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne e da 4 mesi appunto si trovava in carcere in attesa di giudizio anche se l'avvocato e il suo avvocato Giuseppe Lauria aveva presentato estanza di scarcerazione con richiesta di arresti domiciliari che però appunto era stata respinta secondo l'avvocato non vi erano dei gravi indizi di colpevolezza Alessandro era appunto un ragazzo incensurato e nonostante ciò appunto il giovane si sarebbe impiccato nella sua cella subito dopo essere stato ad una seduta psichiatrica Alessandro Galelli aveva denunciato più volte di aver subito percorse dagli altri detenuti del carcere ma proprio questa mattina dal carcere garantiscono che il giovane era in isolamento e che quindi nessuno non poteva essere vittima appunto di alcun pestaggio il suicidio ovviamente riapre un tema caldo quello appunto del sovraffollamento delle carceri e quindi appunto del decreto di svuota carceri che è appunto al vaio del governo Monti ci sono alcuni dati da ricordare per l'associazione in difesa dei diritti dei detenuti la situazione è insostenibile nel corso del 2011 ci sono stati ben 186 i morti nelle celle italiane e questo appunto dovuto a un sistema di sovraffollamento grazie al decreto saranno circa 4.000 detenuti che usciranno progressivamente dagli istituti penitenziari una goccia nell'oceano considerato appunto che si tratta di 68.000 detenuti a fronte di 45.000 posti disponibili negli istituti la cronaca per il momento ovviamente parla d'altro se ci sono ulteriori aggiornamenti vi richiederò la linea grazie, grazie Silvia prima di salutarci diamo una notizia diciamo di colore e decisamente più allegra rispetto alle altre del telegiornale diciamo è un anniversario importante questo per la serie dei Simpsons creata da McGroenig andrà in onda il 500esimo episodio dei Simpsons per l'appunto a questo è il momento di salutarci grazie per essere stati con noi a per aver seguito Dissesto TG e a domani grazie a tutti grazie a tutti